Il giorno dopo l'incendio che ha distrutto la ICS sopra luogo a piano d'ardine delle forze dell'ordine con istituzioni e procura, presenti il commissario straordinario ARPAC Sorvino, il vice governatore Bonavitacola, il sostituto procuratore Cecilia Annecchini, che ha messo i sigilli al sito e per la quale viva l'ipotesi di disastro ambientale. Sarebbe questa dunque la direttrice su cui lavorano gli inquirenti, che però non escludono alcuna pista, anche se la matrice dolosa, vista le circostanze dell'incendio in pieno giorno e con gli operai all'interno, sembra poco percorribile. Sul posto anche il sindaco di Avellino Gianluca Festa, che ha invitato la cittadinanza a continuare ad osservare le precauzioni già indicate ieri e ha aggiunto Non bisogna drammatizzare né sottolotare. Calma, pazienza, siamo sul pezzo, stiamo seguendo da vicino non solo quello che sta accadendo qui rispetto allo spegnimento dell'incendio, ma anche quello che accadrà da oggi per proseguire a domani e in futuro relativamente al suolo, all'aria, all'eventuale contaminazione della comunità sto immaginando di istituire un tavolo tecnico. L'ARPAC intanto ha diramato i primi dati raccolti, tutti entro i limiti. Pur rilevandosi un certo incremento non vi è uno sforamento significativo, quindi sono dati diciamo per il momento e con tutte le cautele e le riserve del caso relativamente tranquillizzanti. I dati relativi alle diossine già registrati per questa notte richiedono dei tempi di processamento presso il laboratorio specializzato di Agnano che è stato appositamente attivato anche nel weekend e questi dati saranno regionevolmente disponibili tra domenica sera e lunedì mattina. E arrivano le rassicurazioni anche per lo stir, è stato definito il riavvio delle attività dell'impianto poco distante dall'ICS, pertanto già da domani sera tutti i cittadini dei comuni irpini potranno riprendere il conferimento delle frazioni di rifiuti.